Questo dolce è un vero simbolo del carnevale. È il migliaccio napoletano, amato in tutta Italia ma soprattutto facilissimo da preparare. Ogni boccone si scioglie letteralmente e conquista per il suo gusto autentico. Oggi vediamo insieme gli ingredienti che servono e tutti i passaggi. Dobbiamo innanzitutto preparare una crema di semolino. Quindi useremo 200 g di semolino, 500 g di latte, 500 g di acqua, 40 g di burro, una stecca di cannella, la buccia di un'arancia biologica e un pizzico di sale. Per preparare la torta ci serviranno anche 4 uova medie, 250 g di zucchero, 350 g di ricotta, un cucchiaino di cannella, la scorza di un limone e infine zucchero a velo per decorare. Iniziamo proprio dalla crema di semolino che sono sicura avrete già fatto qualche volta. In una pentola potete versare l'acqua, il latte e il burro. Aggiungere subito la stecca di cannella per aromatizzare e la scorza di un'arancia. Mi piace prelevarla con il pela patate così da evitare la parte bianca un po' più amara. Metto anche un pizzico di sale, accendo la fiamma e inizio a mescolare così da cominciare a sciogliere il burro. Quando sta per arrivare il bollore posso eliminare la cannella e la scorza e procedere versando a pioggia il semolino. Nel frattempo mescolo con una frusta per evitare che si formino grumi. È un po' come quando si fa la polenta. Adesso porto a cottura, sempre continuando a mescolare, ma ci vorranno davvero pochissimi minuti, appena 4 all'incirca. Ecco il risultato che dobbiamo ottenere, una crema di semolino liscia e densa. La trasferiamo in una ciotola, copriamo con pellicola e può raffreddare con calma, a temperatura ambiente. Nel frattempo ci occupiamo degli altri ingredienti. Quindi lavoriamo la ricotta. Io ho scelto la ricotta di pecora perché regala un sapore un po' più accentuato, ma se preferite va bene anche quella vaccina. La cosa importante però è farla scolare per un paio d'ore, così da eliminare tutto il siero. E poi, per un risultato molto più setoso, vi consiglio di setacciarla, così appunto da renderla molto liscia. Fatto questo, mettiamo un attimo la ricotta da parte e in una ciotola andiamo a lavorare con le fruste e le uova, prima da sole, poi insieme allo zucchero, aggiunto a poco a poco. Devono diventare chiare e spumose, ma non occorre montarle tantissimo. Possiamo quindi unire la ricotta setacciata. E per dare ancora sapore, un po' di cannella in polvere o vaniglia, se preferite, e la scorza grattugiata di un bel limone biologico. Adesso al composto manca solo la crema di semolino che nel frattempo si è raffreddata. La incorporiamo poco alla volta. Ecco l'impasto pronto del nostro migliaccio. Versiamo tutto in uno stampo, mi raccomando ben imburrato, e andiamo in forno statico a 200 gradi per circa un'ora. Ebbene sì, cottura un po' lunga, ma vi assicuro che il risultato sarà perfetto. A cottura ultimata, lasciate riposare il migliaccio ancora un po' all'interno del forno, magari lasciandolo socchiuso. E quando la torta sarà ben fredda, potete completare con una spolverata di zucchero a velo e finalmente gustare questo meraviglioso migliaccio super profumato. Ed è subito carnevale! Ma ditemi, qual è il vostro dolce di carnevale preferito? Scrivetelo nei commenti! Se vi va, vi lascio anche la ricetta delle chiacchiere super bollose! Alla prossima, un abbraccio da Valentina!